Mister, tre punti nelle ultime otto gare, adesso si va nell'ultima dell'anno, nell'ultima del girone, a Cesena, come si affronta questa gara? Hai detto una cosa giusta, si affronta con la voglia, con la cattiveria e poi è un derby, insomma, io credo che siamo consapevoli del momento nostro, non saremo degli incoscienti, no? Però dobbiamo anche capire un attimino che bisogna migliorare in certe situazioni dove noi stiamo lavorando, credo che domani è fondamentale fare risultato, ma al di là del fondamentale per la nostra classifica, anche perché è una partita un po' particolare, sentita, credo, da parte di noi tutti, e sono convinto che faremo una buona gara. Francesco Signori, da quello che abbiamo capito, ha finito il suo campionato, era una pedina importante, ti aspetti qualcosa di più dal mercato adesso? Ma onestamente io credo che io devo far bene la partita domani, mi dispiace per Signori perché è un giocatore importante, ma d'altronde il calcio è questo, è un campo che non ci agevola tantissimo, bisogna essere, adesso non è una scusante, io non sono abituato a trovare scuse, è un campo che noi siamo molto penalizzati, Chi si difende è ovvio che ha più, non mi fraintendete, le squadre che vengono qua si abbassano molto e ripartono, hanno più vantaggi di noi, noi dobbiamo costruire tanto, palla in orizzontale, ci apriamo molto e prendiamo dei contropiedi, è quello che io volevo analizzare con i giocatori, ecco, vorrei un po' più che mi tenesse un po' più la palla davanti e salissimo un attimino di più. Ultima domanda a parte mia, oggi sia Gazzetta che Carlino hanno riportato le dichiarazioni di Cagliendo che dà massima fiducia a Novellino, questo ti dà una sicurezza maggiore per quello che riguarda il tuo futuro, cioè ti dà maggior forza anche con i giocatori? Ma io sono abituato a convivere signori con, mi dispiace che voi non vedete gli allenamenti, mi dispiace che voi non vedete quello che io sto facendo, è ovvio che noi stiamo pagando anche un, al di là anche che qualcuno dei tra virgolette vecchi devono dare qualcosa in più sotto l'aspetto caratteriale della cattiveria, le mie squadre sono sempre con stradistinte direi sotto l'aspetto della cattiveria e questo ultimamente è un po' venuto a mancare, o vuoi che uno non gioca o vuoi che uno non è soddisfatto, io credo che domani tutto questo bisogna resettare che poi chi non ha voglia la porta è aperta per tutti. Misa, lo ha detto giustamente, è anche un derby quindi anche nelle motivazioni andranno ricercate risposte importanti? Sì, nelle motivazioni, è una partita particolare come hai detto tu, credo che è sentita, almeno vorrei tanto questo perché io non dimentico quello che mi ha detto Paolo Reggianini l'altra settimana, ma loro sanno quello che andiamo incontro, beh, io voglio ricordare, io personalmente anche oggi perché onestamente questa è una squadra che onestamente non merita questa classifica, tra virgolette siamo caduti così e bisogna risalire immediatamente. A livello di singoli dovrà tingere a piene mani alla rosa sicuramente perché ci saranno tante importanti defezioni, a livello tattico sta pensando di cambiare qualche cosa sull'atteggiamento? Beh, lo vedrete domani.